Un uomo è fuori a un ristorante e sta aspettando che si liberi un tavolo, no? Perché c'è un sacco di gente, è sabato sera. All'improvviso vede su un tavolo, in fondo alla sala, che c'è sta un uomo con la testa appoggiata al tuo tavolo che dorme. Ha già dovuto. Chiamo il cameriere un po' spazientito e gli fa Mi scusi? Fa sì, mi dica. Ma perché non sveglia quell'uomo e gli dice che ci sono persone in attesa qui davanti? Mi scusi, eh? E il cameriere un po' in imbarazzo gli fa No, mi scusi lei, ma l'ho già fatto tre volte, ma si riaddormenta. Oddio. Ho capito, ma perché non lo butta fuori? È perché ogni volta che lo sveglio mi chiede il conto o mi ripaga? La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma